Consideriamo la mafia una cosa esterna, ma la mafia ci assomiglia. Giovanni Falcone lo fermò vent'anni fa, poco prima di essere ucciso. La mafia, cioè, si alimenta anche del consenso sociale. Lo chiarisce nel libro Irrispettabile una coppia di togati. Domenico Ai Roma è l'ex sottosegretario all'interno Mantovano, ospite a Bari in un incontro organizzato dalla Commissione Cultura al Comune e dalla Fondazione Tatarella e moderato dal direttore del TG Norba 24, Enzo Magistà. Spesso, spiega Mantovano, ci sono persone normali che pur non essendo colluse con la mafia non ne mantengono le distanze. La gran parte dei latitanti di peso si vengono catturati nel loro paese, il che significa che sfruttano non soltanto delle complicità ma una rete ampia di protezione sociale che è uno dei tanti riflessi del consenso, il quale si alimenta anche delle modalità di presentazione dei mafiosi con le fiction, con alcune canzoni, penso ai neomelodici, con la strumentalizzazione delle devozioni religiose. In sala ci sono Mingo impegnato in un film sulla mafia, Pinuccio Fazio che da anni parla nelle scuole di mafia dopo l'uccisione del figlio 16enne. Bastano insomma gesti semplici come l'applauso dei ragazzi ai poliziotti di Palermo dopo l'arresto di Provenzano o come avrebbero potuto fare i concittadini di Lea Garofalo, vittima dell'andrangheta, andando a Milano con i pullman del comune, rimasti però vuoti. La cosa che teme di più la mafia la confisca dei beni e su questo terreno può essere combattuta. L'Italia in tal senso ha le norme più avanzate al mondo.